È stata un'escursione all'insegna del divertimento, quella organizzata dalle associazioni sportive nissene Family Bikers, Imera Bike, Terra Bike e Special Bike, che nella mattinata di domenica hanno promosso una passeggiata in bicicletta per riscoprire le innumerevoli bellezze naturalistiche di Caltanissetta. Sono stati in tutto 55 partecipanti che hanno così potuto ammirare durante il percorso le miniere di Gessolunga e Trabonella, nonché la riserva di Capodarso e la Valle dell'Imera. Altre iniziative saranno organizzate nelle prossime settimane, previste inoltre nel mese di dicembre una passeggiata in mountain bike per le vie della città, con l'ospicio da parte degli organizzatori che tali manifestazioni riescono a coinvolgere sempre più appassionati. Abbiamo fatto questa escursione che è la vecchia Gran Fondo delle Miniere, dove prende le miniere di Trabonella, Gessolungo e Monte Capodarso e la Valle dell'Imera. Abbiamo in previsione in queste escursioni, come abbiamo organizzato siamo più di 50, di fare altre escursioni, una a dicembre per le vie della città e un'altra per le vecchie ferrovie. Questo per cercare di attirare più persone al mondo della mountain bike. Il gruppo sta crescendo, a noi interessa sicuramente far conoscere quelli che sono anche i nostri luoghi, quindi le nostre miniere, le nostre strade, le nostre regge trazzere, in modo tale da poter coinvolgere anche tanti giovani che non hanno nessun obiettivo se non quello di farsi una passeggiata domenicale e uscire insieme a noi. Siamo ragazzi che durante la settimana lavoriamo e la domenica prendiamo la bicicletta, usciamo il family bike, si esce anche con i bimbi, anche tra le cose che organizzeremo domenica prossima ci sarà l'uscita con i nostri figli per le vie anche del centro, nelle nostre strade. Le nostre sensazioni sono bellissime perché riusciamo a fare uno sport meraviglioso, non abbiamo problemi di macchina, non abbiamo nessun tipo di problematica in genere, questo ci permette appunto di stare a contatto con l'aria, con la natura e con tutto quello che riusciamo a godere ogni domenica. Oggi questa passeggiata è stata veramente dura, con questi leoni senza denti, comunque ci siamo divertiti abbastanza. Sono un vecchio motocrossista e grazie a qualche amico mio abbiamo iniziato a intrapreso lo sport della bici. La mountain bike è un posto dove la bici ti fa scoprire posti nuovi che tu non sai, anche se per noi con le moto magari passi un'andatura molto più veloce, molte posti non li vedi. Il bello di questo sport è il bello che tu puoi convolgere anche la famiglia indirettamente, per chi fa le gare puoi convolgere la moglie, i figli, è uno sport sano più che altro perché la domenica dopo una settimana di chi lavora è un modo per scaricare l'attenzione, stare in compagnia e non pensare ad altro in questi istanti. Per me è un'altra novità dopo il cross, come ripeto, per altri è un'esperienza nuova e vedo che a Caltanissetta si sta risvegliando tantissimo, visto che non avendo niente, non ci offrono niente, quantomeno puntiamo su uno sport che ha bassi costi e ci fa risvegliare la matura.